Un sondaggio tra la gente, quello che i componenti del movimento politico patto etico responsabile hanno realizzato sabato mattina al mercatino di Pian del Lago in vista delle prossime amministrative per conoscere, attraverso la somministrazione di due questionari, i requisiti del futuro sindaco di Caltanissette e quali le priorità che la prossima classe politica dovrebbe affrontare per far ripartire la città. Un modo per coinvolgere in issegna la partecipazione attiva alla vita politica è contribuire con la propria opinione alla predisposizione di un programma elettorale che risponda alle necessità della cittadinanza, un'iniziativa non nuova per il movimento patto etico responsabile che in questi anni ha proposto e portato avanti diversi progetti di democrazia partecipata e di responsabilizzazione del cittadino. Abbiamo visto che abbiamo avuto un grande successo perché molti cittadini si sono fermati, hanno espresso le loro opinioni sia per quanto riguarda le priorità dei problemi da risolvere per la città sia per quanto riguarda questa figura di candidato sindaco ideale che abbiamo voluto proporre loro. Assolutamente positivo perché l'attenzione della gente ancora c'è anche se qualcuno effettivamente è disamorato, è un po' disancorato da quelli che sono gli obiettivi della politica ma la stragrande maggioranza dei cittadini ha voglia veramente di dire la propria opinione, di esprimere la propria opinione per evidentemente pensare al futuro dei propri figli. Adesso seguirà una seconda fase che è quella appunto di analisi delle risposte perché abbiamo veicolato questo questionario sia sotto forma cartacea appunto facendo questi incontri con i cittadini sia anche sul web, sul blog, su facebook, sui social network in genere e quindi passeremo alla seconda fase che è quella di analisi dei risultati. Una volta analizzati i risultati ovviamente questi saranno resi pubblici e in base ai risultati ottenuti proveremo a tirare fuori il profilo del candidato sindaco ideale e terremo conto delle indicazioni dei cittadini per il programma elettorale che poi ci contraddistinguerà nella prossima campagna elettorale.